sono le 23 e 52 di un sabato sera sto morendo di sonno e ho una luce che mi rende liscia come barbara d'urso e sto per fare una cosa di cui mi pentirò tra meno di un minuto cioè tre recensioni in un video soltanto non so se ci riuscirò ma ci provo davide longo la serie del commissario arcadipane sono tre libri che sono stati pubblicati tutti i prenaudi quest'anno i primi due erano stati pubblicati da feltrinelli sono stati ripubblicati l'anno passato insomma davide longo è un maestro di scrittura alla scuola holden quindi in teoria non ci sarebbe nulla da dire sul maestro di scrittura ma io ho qualcosa da dire e allora brevemente le trame dei tre libri e poi vediamo che cosa da dire primo libro il caso bramardi il caso bramardi questa è la copertina per e in audi in breve in due parole corso bramardi il commissario più giovane d'italia a un certo punto indaga su un serial killer che viene chiamato autunnale autunnale rapisce donne e le ammazza a un certo punto rapisce anche sua moglie e sua figlia di pochi mesi ammazza anche loro corso bramardi si ritira dalla polizia e passa le sue giornate scalando montagne senza protezione sperando di cadere di farsi molto male e probabilmente spera anche di morire quello che lo tiene in vita in questi vent'anni dalla morte di moglie e figlia è una corrispondenza che autunnale intrattiene con lui gli manda delle lettere ed è una sorta di gioco psicologico ed è una sorta di ed è una fase di stallo che dura vent'anni finché a un certo punto arriva una lettera in cui autunnale commette un errore che porta corso a ringalluzzirsi e a decidere di riaprire l'indagine si farà aiutare dal commissario arca di pane che poi diventerà il protagonista della serie che è allievo un allievo di corso bramar nonché suo successore e da una gente fighissima stronza da morire femminista non nel senso che difende le donne quanto nel senso che sterminerebbe tutti gli uomini si chiama isa mancini parte questo questo lungo viaggio arca di pane non potrà non potrà seguire le indagini ufficialmente quindi seguirà corso e isa nei loro guai mentre percorreranno persone luoghi che 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 riapriranno ferite finché alla fine non arriveranno ovviamente a dei risvolti inaspettati sorprendenti e tante altre cose belle secondo libro le bestie giovani copertina sempre per inaudi le bestie giovani sempre davide longo di cosa parla parliamo della rivolta politica degli anni 70 il libro inizia con il commissario arca di pane che si ritrova in un cantiere sotto il quale vengono rinvenute delle ossa prima poche poi troppe e le indagini passano nelle mani dei milanesi milanesi che decidono che quei corpi sono di morti ammazzati durante la seconda guerra mondiale ma arca di pane che apre questo libro in uno stato pietoso con crisi esistenziali crisi familiari crisi di 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 cosi che non gli eserizzano più con tanti problemi decide di farsene altri e quindi sul sul luogo del crimine prende un femore il bottone di un jeans e decide di indagare con questi due oggetti ma chi può far parlare questi due oggetti se non l'ex commissario corso bramar è appunto la fighissima isa mancini che entra in scena in un modo meraviglioso io adoro quel personaggio anche se poi alla fine di tutti e tre i libri sparisce in un modo che non mi piace tantissimo io gli avrei dato un po più di importanza in uscita tanta quanta gliene viene data in entrata e nel corso del libro c'è un salto indietro negli anni settanta quando corso bramar era un poliziotto e uno studente che indaga su un caso di incendio lo collegano a le rivolte politiche giovanili degli anni settanta ovviamente alla fine si decide di nascondere tutto e di zittire tutte le voci che giravano attorno all'episodio si riaprono corso ricorda dei nomi cercano di risalire a luoghi posti persone mezzi e abitazioni e risalgono e risalgono ci arrivano un altro finale inaspettato anche qui c'è un altro finale inaspettato soprattutto per isa mancini e nonostante sia importante il finale per isa mancini anche in questo caso isa mancini sparisce in un modo che non mi è piaciuto l'ultimo una rabbia semplice quello che ho finito di leggere oggi pomediggio ecco qua la copertina una rabbia semplice sempre davide longo che cosa succede un caso di aggressione che si risolve da solo perché ci sono telecamere ci sono immagini c'è un travestimento ci sono dei messaggi che vengono mandati da questo ragazzo quindi è tutto talmente chiaro che nel giro di poche ore il caso si risolve il ragazzo in carcere tutto bene tutto tranquillo anche perché arca di pane è sempre più un disastro di uomo che non se legge manco in piedi ma lui decide di credere al ragazzo che si dichiara innocente e quindi di indagare e di approfondire la cosa intanto si è separato i figli non gli parlano esattamente come prima si porta presso il suo cane a tre zampe unico servo fedele il poliziotto pedrelli che insomma obbedisce a ogni suo ordine e a un certo punto arriveranno ovviamente corso bramardo e isa mancini che sono tanto cambiati e non mi piace questa cosa sono troppo cambiati isa è sempre stronza bramardo è sempre brillante intuitivo però però sono cambiati e non posso dire nient'altro in questo caso davide longo parla di un discorso che fa un po un po paura parla di dark web parla di queste sfide tra giovani tra adolescenti che vengono gestite spesso da da fantasmi sembrano sembrano fantasmi inafferrabili quelli che sono dall'altra parte dello schermo e il discorso si fa serio il libro è molto più lento degli altri due basta come riassunto ci siamo perché ricordo sempre che le trame sono ovunque tipo su amazon e digitate il titolo e ci sono trame molto esaustive che cosa da dire su questi tre libri e davide longo ha tantissime idee scrive bene non posso dire niente insegna la scuola olden è un maestro di scrittura e devo mettermi in testa che lui scrive bene punto però però nel primo libro io ho dovuto utilizzare il dizionario svariate volte che può essere mia ignoranza posso essere tanto ignorante mediamente ignorante posso essere un po ignorante ma c'è stato un concentrato di parole che non servivano c'è il loro sinonimo più semplice più quotidiano più 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 terra terra non avrebbe tolto assolutamente nulla il significato delle frasi mi ha infastidito molto la cosa e credo che non sia un problema di mia ignoranza perché se no avrei dovuto riscontrare lo stesso problema negli altri due libri o comunque nella stragrande maggioranza dei libri che leggo invece solitamente lascio in pace il dizionario e mi godo la lettura ecco questa cosa mi ha infastidito poi un po di confusione nei dialoghi io credo che nella metà dei dialoghi senza esagerare non ho capito chi stesse parlando che come ho già detto può essere un mio problema però negli altri due libri l'ho capito qui ho fatto fatica c'erano delle interruzioni nei dialoghi davide longo scrive dei dialoghi molto lunghi che mi piacciono in realtà però alcune volte ci inseriva delle entrate del narratore su cui adesso parleremo tantissimo delle entrate del narratore poi riprendeva a parlare non si capiva assolutamente chi stesse riprendendo a parlare poi ti rindirizzava e ti riportava sulla retta via però però mi ha distratto finale aperto finale aperto ma non di quei finali aperti che ti dicono compra il secondo libro attendilo con ansia no finale aperto nel senso che a me i finali scritti così non mi piacciono e sarà un mio limite anche questo perché forse non li capisco però io non ho capito nessuno dei tre finali di questi tre libri e quindi non mi sono piaciuti i finali così l'ho detto e abbiamo chiuso secondo libro secondo libro c'è stato un narratore un narratore sboccato non che io parli come il presidente di oxford insomma è ma è un impiccione cioè come se vedessimo pinocchio e ci fosse costantemente il grillo parlante che dice che cazzo fai no pinocchio sei uno stronzo no stai facendo una cazzata no no troppo invadente troppo invadente sboccato uno sboccato che ci stava nel personaggio certe volte non si capiva se effettivamente stesse parlando arca di pane il commissario oppure stesse parlando il narratore oppure fosse un pensiero ad alta voce oppure stesse parlando effettivamente davide longo e qual è il suo modo di esprimersi il narratore nel secondo libro è stato odioso e fastidioso per il resto il ritmo ha tenuto tantissimo gli sbalzi temporali sono stati gestiti in maniera magistrale mi è piaciuto tantissimo fare quel salto indietro gli stessi personaggi che si ponevano parlavano si muovevano in modo diverso e non mi è pesato ma nello stesso tempo mi sono ritrovata negli anni 70 e poi al giorno d'oggi il secondo è quello che mi è piaciuto di più tranne il narratore che ha rovinato tutto il terzo un narratore meraviglioso sempre un po sboccato sempre un po che si fa i cazzi degli altri però mi ha accompagnato con semplicità in questo viaggio che come gli altri due non ritengo un thriller davide long è molto bravo a raccontare delle storie sono ovviamente dei polizieschi stiamo ovviamente parlando di indagini c'è un percorso ci sono delle indagini ci sarà un colpevole ci saranno da da scoprire dei meccanismi per per arrivare a una soluzione poliziesco si thriller no suspense è sempre mezzanotte e nascerto non riesco a parlare suspense zero colpi di scena pochi infatti nel terzo ho trovato anche un po un po di lentezza qualche pagina di noia però la storia è andata diciamo che da un argomento come quello che è stato trattato mi aspettavo un po più cioè io quando leggo su un giornale le notizie del blue whale piuttosto che tante altre cose cioè di ragazzini che a un certo punto si suicidano da nulla ragazzini 12 13 14 anni o che fanno del male agli altri per sfida o che fanno del male a se stessi per sfida e che hanno delle classifiche dei punteggi come se stessero giocando una partita di biliardino ecco mi viene la pelle d'oca e impazzisco qui ho letto un romanzo intero che parlava di questo non mi ha turbato più di tanto alcuni indizi alcuni snodi sono arrivati un po come una manna dal cielo quindi un pochettino l'ha fatta facile secondo me poteva fare di più secondo me per un argomento così tosto e così attuale peraltro poteva poteva fare di più ma un ottimo narratore e la sua ottima padronanza di scrittura mi hanno comunque accompagnata piacevolmente nel nel viaggio di questo libro finale lo stesso degli altri due al finale non mi è piaciuto il finale non l'ho capito non so se ci saranno altri libri della serie del commissario arcadipane spero di sì perché alla fine di tutto arcadipane bramard e i samancini sono tre personaggi che restano sono tre personaggi fighissimi tutti e tre nonostante arcadipane poi sia diventato il solito commissario stereotipato con il matrimonio fallito con le disgrazie e il pisello che non gli si tira più su però è un ottimo personaggio isa mancini fighissima corso bramard non so che fine farà e 14 minuti al prossimo video